Good morning Bolini vi ricordate quando vi dicevo mi sono mostro sempre sul tredicesimo meridiano Tripoli, Giuliano Nuova, Berlino e io vi dissi non è che ci sono arrivato per caso per dire per caso vi feci il video e vi spiegai ora dove... c'è la miseria guarda ieri per caso vado a vedere dico ma perché l'altra volta parlavo con un utente sul nome Luigi che gira significa a Giulia e poi sono nato a Giuliano Nuova e gli portai l'esempio guarda che pure Hitler era nato a Brunau e c'aveva la moglie che si chiamava Braun a prescindere da questo che poi un giorno magari ne parlerò di questa associazione che mi lega a quel soggetto sarebbe assurdo parlarne adesso comunque vedi sono usciti già i pezzi vedi io mi trovo negli stessi luoghi vabbè lasciamo i pezzi ok andiamo al dunque vediamo la romana dunque cosa ti scopro io per caso vedi tutte le cose poi per caso lasciamo per il tredicesimo andiamo a vedere il trentatresimo parallelo porca miseria che poi l'ho captato per caso sono andato a fare una cerca su youtube non c'è niente c'è solo un video spagnolo non ve lo metto sotto perché vi fa vedere pure le costruzioni che sono state comunque tenetevi forte guardate dove passa sto Kaiser di parallelo ricordate quando dicevano Cristo scende a Damasco Damasco ha cominciato a prendere Damasco Baghdad poi in Afghanistan in un paese specifico dove si addestravano i talebani poi Los Angeles poi la città di Phoenix Fenicia poi Roswell come ci fu l'incidente con l'1 e il 47 poi spostandosi nel punto esatto dove fecero esplodere la prima bomba atomica non mi ricordo il nome comunque lì nel deserto ne vale mi sembra poi Dallas guarda caso Kennedy non andarono a scegliere ammazzarlo proprio lì ma non è solo per quello poi la città di El Dorado poi la città di Crosset cioè la croce di Seth poi Atlanta Columbia perché Colombo è uguale a Fenicia il simbolo della pace della Colombo è l'esatto inverso come l'esatto inverso è il simbolo della pace della runa rovesciata che significa morte anyway eravamo rimasti eh eh Colombo Casablanca in Marocco e poi va l'isola di Funcialo vicino a Madeira dove c'è la casa il museo di Cristoforo Colombo e poi gira altri anche Cipro sta al 33 Tiro sta al 33 e per me è importantissimo la città di Tirosia a 33 quindi interessava dirvi questo guardami non vediamo cosa poi vi metto il link lì che vi fa vedere che vi fa vedere che vi fa vedere anche alcune costruzioni specifiche piramide e cose che stanno sopra comunque ah no dimenticavo la bomba atomica è fatta scoppiare in Giappone stanno pure al 33 la città risulta 34 ma è al limite al limite 33 le ha fatte saltare pure lì Hiroshima e Nagasaki non so tra le due mi sembra Hiroshima o entrambi non lo so non mi ricordo comunque è una delle due sicuro hanno fatto esplodere la bomba atomica lì quindi non può essere un caso ho preso una mappa stamattina in Atlante l'Atlante che c'ho io per cercare ancora meglio ma ci vuole tempo ci vuole cosa era giusto per darvi questa informazione perché evidentemente questi non sono a caso anche perché come diceva lì nel video Damasco non è che l'hanno costruita quasi che non potevano sapere di averla costruita proprio su quel 33esimo parallelo stesso Baghdad e qui stiamo parlando di città che sono nate con l'uomo momenti specie lì in Mesopotamia odierno Iraq quindi poi quando sono andato a Dio poi tornando al 13esimo vuoi andare a vedere che Hitler è nata pure al 13esimo quando sono andato a vedere il 13 meridiano oh porca miseria ho detto stamattina c'è un discorso molto più complesso ma io me lo sviluppo bene perché lo devo pure io lo so ma lo devo capire bene pure nei punti di fatto vi metto pure sto link giù sotto che vi fa vedere alcune costruzioni perché poi c'è c'è il nord e il sud no? sia dei meridiani est e ovest dei meridiani e il nord e sud dei paralleli quindi anche lì ci faccio uno sviluppo era solo per darvi un input di cerca perché questi col 33 lui alla fine parla pure di una linea di sangue antichissima che si muove solo su questo parallelo non parla del 13 il 13 è tutta una mia scoperta nessuno qui qualcuno ne ha parlato vedi sto link spagnolo oppure qualcuno anche in Italia ma non ho trovato ho trovato qualcosina in giro di questa associazione con il 33esimo parallelo ma col 13esimo meridiano nessuno questo ho scoperto solo io ma oggi sono andato a scoprire pure Brownhound I'm in perché evidentemente e mo andiamo a discorsi mistici esoterici e energetici evidentemente in base a se stai su questi specifici precisi tipo 33 parallelo 13 cose riescono a influire meglio sull'essere che vogliono influire e viceversa ok per oggi mi fermo qua see you later alligator e